Se vi piacciono i Waffle avete trovato l'indicazione giusta. Ci sono veramente tanti modi per chiamare queste cialde che a volte sono croccanti e a volte morbide. Arrivano dalla Francia, dalla Germania, dal Belgio. Beh, ovviamente la diffusione è un po' dell'Europa centrale, ma noi che siamo italiani amiamo i Waffle per colazione, con la Nutella, con il gelato, con tante fragole quando sono di stagione. Per prepararli seguite le mie indicazioni. Questi gli ingredienti per circa 8-10 Waffle, o Go Free chiamateli come vi pare, 280 grammi di farina doppio zero, 220 grammi di zucchero, un pizzico di sale fino, 6 uova, 250 grammi di burro, una bustina di vanilina, zucchero a velo, quanto basta. Questa la preparazione, separiamo i tuorli dagli albumi, montiamo a neve gli albumi con metà dello zucchero ed un pizzico di sale. In un'altra capiente terrina invece sbattiamo i tuorli con l'altra metà dello zucchero e la vanillina fino a farli diventare spumosi. Uniamo ai tuorli 110 grammi di burro fuso ma raffreddato. Il burro avanzato poi servirà per imburrare la piastra. Incorporiamo adesso gli albumi al composto di tuorli, zucchero e burro. Mescoliamo delicatamente ma in modo deciso dal basso verso l'alto per non smontare gli albumi. Aggiungiamo al composto anche la farina setacciata poca alla volta, sempre eseguendo lo stesso movimento con la spatola di gomma fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto prendiamo la macchina per i waffle, la accendiamo e la lasciamo riscaldare. Quando la piastra sarà calda la spennelliamo con il burro fuso. Versiamo adesso un mestolo abbondante di composto per volta al centro della piastra o al centro delle forme a seconda della piastra che avete, così quando poi la chiuderete il composto si espanderà per tutta la dimensione. Una volta chiusa la cialdiera lasciamo cuocere per circa 5 minuti fino a quando i waffle risulteranno ben dorati. Estrarre a questo punto i waffle dalla piastra, mettiamoli su un tagliere ed eliminiamo gli eventuali bordi in eccesso. Tagliare anche le porzioni seguendo le forme della vostra cialdiera. Spolveriamo i waffle con zucchero a velo e serviteli caldi accompagnati con le glassiche preferite. Se non avete la piastra potete provare a cuocere i waffle sulla padella antiaderente come i normali pancake, visto che l'impasto un pochino gli assomiglia.